Stefano Cascioli noi siamo qui con lei per parlare di un del suo primo cd se non sbaglio un cd tutto pianistico e dedicato a Francesco Pennisi dunque noi sappiamo che Francesco Pennisi è stato un compositore molto nel 2000 un compositore molto importante per la musica italiana lo conosciamo soprattutto perché ha fatto tante musiche da scena opere musiche da camera musiche vocali ma lei si è focalizzato invece su una parte molto diciamo precisa della sua produzione che è quella che riguarda il pianoforte ci spiega un po questo suo interesse per la musica di Pennisi l'interesse che ho coltivato nel tempo per la musica di Pennisi nasce dall'infanzia da quando ero piccolo da quando ho mosso i primi passi nel musicale perché i miei genitori che sono entrambi musicisti lo hanno spesso suonato e quindi pur non avendoli sentiti dal vivo avevo le partiture di Pennisi e addirittura mia madre e lo conobbe di persona perché essendo stata allieva di Mariolina de Robertis che era un pilasio del caricembalo contemporaneo in Italia ho avuto l'opportunità di conoscerlo personalmente e quindi ho avuto ho questi ricordi proprio legati alla persona di più non solo al musicista perché mamma me ne parlava spesso e lo presentava come oltre che un grande compositore un uomo raffinato molto elegante e quindi mi è rimasto nel tempo questo ricordo questo bel ricordo della figura di Pennisi però non avevo mai sentito parlare della musica per pianoforte che appunto come diceva lei fa parte del catalogo meno conosciuto di Pennisi e quindi la ricerca che ho intrapreso è stata puramente personale di studio e poi mi sono reso conto che una volta consultati gli spartiti che ho trovato tramite il fondo Pennisi che si trova a Roma all'Accademia di Santa Cecilia mi sono reso conto che c'erano cose molto belle c'erano brani molto belli e mi sono fatto forza ho provato a registrarli è stato un esperimento devo dire la verità neanche pensavo di pubblicare l'incisione volevo sintetizzare il mio studio la mia ricerca in questo modo poi devo dire la verità ci sono delle cose che mi hanno convinto particolarmente ho avuto mi sono fatto coraggio e mi sono fatto avanti la Stradivus l'ha pubblicato anche un breve tempo si è dimostrata molto interessata al prodotto la cosa particolare è che l'ho inciso non esattamente qua dove mi trovo ma qualche stanza più in là del teatro nella sala del General Music Directo che ha un DIY del 39 molto particolare veramente un suono speciale la cui meccanica è stata rinnovata per cui era anche molto piacevole molto facile da suonare ammaliato dal suono dello strumento ho trovato con geniale anche questo calore la scrittura così raffinata così elegante di Pennisi ecco sì dunque lei ha detto ha accennato al teatro noi non abbiamo ancora raccontato di che teatro si tratta ci dice di dove esattamente io mi trovo nel teatro di Erfurt che è un teatro tedesco vicino a Weimar e svolgo qui il ruolo di maestro collaboratore da metà del 2019 quindi da un anno e mezzo chiaramente abbiamo anche noi sofferto la situazione pandemica per cui da tanto che siamo fermi e si può provare infatti mi trovo qua ho da poco finito alcune lezioni alcune prove però chiaramente speriamo che la cosa si risolva il più presto ma gli scenari sono ancora abbastanza pessimistici certo ovviamente come un po' dappertutto in tutta in tutta Europa certo dunque il suo lavoro consiste esattamente in cosa cosa fa lei faccio tante cose devo dire la verità ho parecchie mansioni in teatro la principale ovviamente è quella di preparare i cantanti per le opere quindi in base all'opera che viene alle opere che vengono programmate ci si organizza per tempo e con dovuto anticipo prima si fanno le prove singole poi si uniscono le voci si fanno prove d'insieme e si spera che l'inizio delle prove di scena appunto quando arriva il regista e si prepara poi l'allestimento i cantanti siano pronti ovviamente è un lavoro che è in sinergia con la direzione musicale con i direttori oltre a questo ovviamente le prove di scena le deve suonare il pianista perché l'orchestra non può essere semplicemente durante le prove di scena arriva in fondo quando il pacchetto è pronto poi devo dire neanch'io immaginavo di fare tante cose mi capita di assistere il direttore durante le prove con l'orchestra anche nel repertorio sinfonico devo suonare le tastiere in orchestra quando è previsto non solo pianoforte ma anche organo celesta se capita spesso capita nell'opera che ci siano delle bandine interne quelle spettano a me talvolta e poi faccio anche il solista quando sono arrivato mi avevano dato subito un concerto anche con musiche che a me interessavano lei che aveva fatto il nono di Stokhausen uno studio di Charles Heitz devo dire che non immaginavo ci fossero così tante opportunità per suonare anche come solista non solo come maestro collaboratore beh sì diciamo che appunto il maestro collaboratore è uno dei possibili sbocchi di lavoro di chi poi studia pianoforte ma lei oltre ad aver studiato pianoforte ha studiato anche altri strumenti e altre diciamo chiamiamole discipline sì il mio primo diploma o per meglio dire la mia prima laurea si chiamano lauree sono corsi universitari riguarda il violino l'anno dopo mi sono laureato in composizione entrambi gli studi li ho svolti a Udine in conservatorio rispettivamente con Diana Mustea e Mario Pagotto e poi sono entrato direttamente nel bienio di specializzazione pianistico col maestro Massimo Gona a Trieste nel mentre portavo avanti la direzione d'orchestra che ho fatto ho studiato con Donato Renzetti e iniziando l'Accademia Pescara l'Accademia musicale pescarese poi il maestro l'ha spostata a Saluzzo dove c'è una grande tradizione legata alla direzione d'orchestra perché lì ci furono anche i corsi di bidacche a suo tempo e così ho finito un po' più di un anno fa proprio in quel periodo ho avuto la chiamata qui ad Airfoot avevo vinto l'audizione avevo vinto il posto veramente un'opportunità così non me la potevo lasciare sfuggire soprattutto in tempi dove non è facile inserirsi nel mondo del lavoro in ambito musicale certo certo e quindi è arrivato ad Airfoot lei è arrivato con queste queste partiture che ha portato con sé di Pennisi che è il CD con cui abbiamo iniziato il nostro racconto di oggi oppure è tornato indietro in Italia e ha fatto ulteriori ricerche? non avevo ancora approfondito Pennisi ci stavo pensando però poi le vecissitudini anche lavorative mi hanno un attimo scostato dal pensiero Pennisi qualche mese dopo ho contattato il fondo Pennisi a Roma e mi sono fatto mandare i PDF anche perché quasi tutti i brani per pianoforte di Pennisi sono inediti e devo dire che la ricerca è stata molto complicata oltre che il fatto che molti manoscritti non sono chiari si trovano veramente in uno stato provvisorio sembrano più delle bozze che delle partiture e degli spartiti finiti ma è successo che dopo aver consultato i cataloghi disponibili mi sono reso conto che mancavano due pezzi che non aveva il fondo Pennisi allora avevo già finito l'incisione però mancavano questi due brani e se andava pubblicato dovevo pubblicare l'integrale non aveva senso lasciare pezzi per strada e in un caso mi è stato di grande aiuto il maestro Giancarlo Simonacci che fu l'unico prima di me ad aver inciso parzialmente l'opera per pianoforte di Pennisi dico parzialmente perché Pennisi era ancora vivo quando il maestro incise il CD e quindi molti brani non li aveva ancora scritti e si tratta del frammento Naxiota e lui fu il primo assoluto a suonare che fu molto disponibile gentile a mandarmi assieme anche al frammento 99 a dire però anche quello non si trovava in fondo Pennisi e poi la storia del corale di felicitazione è molto affascinante perché nessun fondo aveva questo spartito e in quel caso contattai Nuova Consonanza l'Associazione di Roma certo che fu proprio fondata dallo stesso Pennisi perché avevo consultato un libro di Mastro Pietro che cita appunto Nuova Consonanza e dove vengono riportati i concerti una parte di concerti dedicati a Pennisi e c'era appunto l'esecuzione nel 2001 credo se non l'unica una delle pochissime fatta da Scottese che fu destinatario del brano a pochi mesi di distanza dalla morte di Pennisi e in quel caso l'Associazione Nuova Consonanza si ricordò di questo concerto di quel brano e mi e mi diede il contatto della vedova di Scottese che è l'unica che ha ancora il manoscritto originale non l'ha voluto lasciare su un fondo perché era un pezzo ricordo certo ricordo anche legato appunto a questa vicissitudine familiare cambiarono casa e Pennisi dedico a loro questo questo breve corale e quindi tornai a distanza di pochi mesi con la foto di Whatsapp che mi fece la signora Scottese e ho finito l'incisione molto diciamo molto affascinante dunque Stefano Cascioli lei appunto ha un po' adesso un colpo d'occhio su cos'è la musica per pianoforte di Pennisi le sembra che ci sia stata un'evoluzione nel suo linguaggio nel suo modo di scrivere in questi in questi brani che un po' seguono il suo percorso artistico sì diciamo che secondo me i brani per pianoforte sono una valida catena ritorno a sole delle varie dei vari periodi stilistici di Pennisi nonostante sia difficile catalogare Pennisi ha una poetica tutta sua che abbraccia vari modelli per cui è molto difficile sintetizzarlo però i brani coprono un arco di 40 anni si va dai sei pezzi brevi diciamo alla fine degli anni 50 fino appunto all'annutata Tantarani la sua versione del canto popolare siciliano risale a pochi mesi prima della morte si vede si vede un po' tutto Pennisi devo dire in sintesi quello che poi esprime nei nei brani che maggiormente lo rappresentano si passa da una scrittura post weberniana di rottura della linea della frase tradizionale penso a musica per pianoforte per forze ancora meglio dove ci sono questi secondi di pausa dove gli stessi movimenti interni del brano suggeriscono subito avanti c'è scritto questa conseguenza questa conseguenzialità no della 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 frazione di tale si va poi anche a parlare di pianoforte preparato la promenade è un chiaro riferimento alla al pianoforte preparato di John Cage è stato un modello per Penisi lui stesso l'ha più volte ribadito però devo essere sincero anche lì avendo utilizzato avendo utilizzato lo stilema del pianoforte preparato il modello pigiano poco c'è dell'estetica di Cage si sente Penisi in ogni sua sfumatura e poi c'è questa cosa molto affascinante del canto popolare di come viene rivisitato da Penisi senza stravolgerlo devo dire la verità sono pagine molto graziose non si riconosce proprio il canto originario spesso nelle partiture sulle note del tema proprio il testo per rimarcare il riferimento alla melodia popolare penso la canzone da suonare a che bella chi sta via quindi anche chi anche chi non conoscesse il canto popolare tradizionale lo ritrova lo riconosce in generale la scrittura di Penisi è estremamente elegante e molto piacevole da suonare molto pianistico ed è contraddistinta da questa eleganza del tratto del segno che fa capire bene per quale motivo Penisi non è ricordato solo come grande musicista grande compositore ma insieme come artista come tuttore in questo la summa dell'arte di Penisi la troviamo nelle opere in cui le varie arti le sue varie arti si intrecciano e possiamo citare Carteggio che forse è il brano più famoso di Penisi e la raccolta di deragliamenti la raccolta dei frammenti in una trascrizione per pianoforte che viene da deragliamento che è un brano appunto io l'ho presentato come brano pianistico è stata una mia scelta anche se dovrebbe essere un accompagnamento alle proiezioni dei suoi ritratti delle sue delle sue pitture tant'è vero che sulla spartito è segnato e ho devo dire la verità l'ho solo si l'ho solo presentato come brano pianistico perché effettivamente è scritto brano pianistico ma sarebbe da interrompere per ogni sezione seguendo appunto la regia si ed è un po' una una sintesi totale dell'arte penesiana che sarebbe bello anche rifare con con i mezzi con i mezzi moderni perché quella volta lo scrisse nell'ottantaquattro se mi ricordo e lo suonò Daniele Lombardi e lui stesso disse che era era una una novità dal punto di vista teatrale e che con i mezzi più moderni sarebbe stato ancora più efficace quindi certo mi auguro di poterlo eseguire anche come originariamente era stato pensato in questa versione certo sarebbe molto bello averlo vederlo e dunque questo è stato il suo cd d'esordio quindi il suo primo cd sta preparando un secondo cd no mi godo penisi è passato ancora troppo poco tempo no non 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 ci ho ancora pensato vorrei tornare adesso vorrei fare concerti mi manca mi manca il pubblico è bello chiaramente è un altro approccio quello del dello studio di registrazione ma anche proprio la l'aspetto del anche dell'imprevedibilità del concerto perché ci sono delle sensazioni che solo in quel momento si possono vivere questo un po' in studio l'ho perso anche un po' inesperienza appunto non sapevo bene cosa volesse dire incidere fare un disco fare un cd certo diciamo che se dovesse capitarmi vorrei fare un cd che avesse anche un'importanza a uno spessore musicologico come mi auguro sia stata questa proposta di Pennisi perché il mercato è saturo bisogna dare qualcosa di nuovo e di interessante certo certo bene Stefano Cascioli noi la ringraziamo molto per essere stato con per aver chiacchierato con me di questo nuovo cd un cd dedicato a Francesco Pennisi per la casa editrice Stradivarius e ovviamente noi siamo sempre molto curiosi delle cose che lei farà in futuro e ecco staremo a vedere staremo a curiosare sul lei ha un sito un sito internet e su Facebook dove la troviamo? Dappertutto Facebook Instagram c'è un sito sono cerco di aggiornare i profili il più possibile comunque dovessero esserci delle novità importanti questi sono i canali di riferimento benissimo grazie mille e in bocca al lupo per la continuazione di questo di questo suo percorso musicale spereremmo di vederla anche come direttore grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.